Buongiorno a tutti e benvenuti in questo quattordicesimo episodio, sto facendo colazione tra poco andrò in palestra quindi farò stacchi da terra, stavo guardando che l'ultimo video l'ho pubblicato solo quattro giorni fa, l'ha preso già 43 mi piace se non sbaglio, sì 43 mi piace Ma poi con quella ti c'è stai sentito o no? No basta, ti sei baccatato pure Secondo me ha smesso di allenarsi, non gli va più? Ascoltami io gli dico che è grosso ma solamente perché lavoro qui Per farlo contento, sì 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 esatto è molto più piccolo di me penso, sì madonna però madonna Bene io torno a lavorare, oggi spenneremo una cifra via, ma proprio tanto 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 Bravo cameraman, quadra bene i deltoidi posteriore mi raccomando, sono importanti, allenate sempre i deltoidi posteriore ragazzi Stai inquadratto al momento Questi 7 mesi ho raggiunto buoni risultati sia in termini di forza che di massa, anche se non sembra Stamattina mi sono svegliato con 3 iscritti in più, 170 iscritti, continuate ad iscrivervi Stamattina il peso è stato di 69 kg circa Ma come hai fatto poco cardio? Ho trattato la scala, la passa settimana, l'hai fatta la scala che hai fatto la fase cardio o no? Ho saltato tutto, la mappa è stavolta, l'ho fatta la scala di cardio di giugno, l'ho fatta la scala! Questa cosa non si dice, non si dice, non si dice, la passa segretà tramite te Ma riusciamo il cicatone, che vuoi farlo? Si è rialzato, si è rialzato! Ho 7 grazie, l'ho facciato tutto Aia! 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 Adesso lo stiamo facendo per i nostri amici e i nostri genitori Questa scelta non potevo fare Aia! Aia! Io sto sempre in forma Aia! Beh ragazzo Aia! Romali se vuoi prendiamo anche un caprese E te l'offro io giustamente Ovvio Cavallette giganti, dette anche locuste Come termine, buone eh, locuste Non ne so, voi fammi dire Ma sono vive? No, no, l'ho uccise adesso tutte quante Senti come scricchiola? Senti come scricchiola? No, ce la faccio! C'era il 30% di sconto su MyProtein Quindi ne ho approfittato Due chili di burro d'arachidi Due di burro di mandorle E due di burro di anacardi Siamo di fronte alla macchina più famosa del web Alla mitica punto rossa Ci sono tutte le scritte Ciao a tutte Belle e brutte Come gesto di romanticismo Nei confronti delle ragazze Che passano di fronte a questa macchina Qui un messaggio molto importante Che c*****e soni? Che sta proprio a significare il fatto che Magari una persona che sta dietro Che sta lì Appena scatta il verde che fa Più e suona Non va bene sta cosa no? Fai il seguo su E scompro! E scompro! E scompro! E scompro! Non crede si pure la pausa prima Risparmiamo le energie Per il prossimo round Verona fratello 6 7 Chi si accontenta Non gode Nè vero 100 Amiciziale Che impresa Che impresa Date ossigeno a questo ragazzi Non vi costa niente a voi Ma per me è un supporto fondamentale Quindi iscrivetevi al canale Cliccate il tasto iscriviti Ringrazio tutti coloro che lo faranno E direi che ci vediamo in un prossimo video Grazie raga Grazie a tutti Grazie a tutti